Continuo è il piano di ammodernamento del trasporto ferroviario in Sicilia. In quest'ottica la regione siciliana ha finora rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma del piano di investimento in materiale rotabile aggiornato al 2026, con la dotazione di 42 nuovi treni regionali che saranno tutti in circolazione entro il primo semestre 2023. Un ulteriore passo avanti verso il potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa di trasporto ferroviario in Sicilia in linea con gli obiettivi strategici di completamento dell'anello ferroviario dell'isola e della velocizzazione della tratta Palermo-Catania. Sono parole dell'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Ricò che ha commentato la decisione del Consiglio di amministrazione di Trenitalia, grazie alla quale nei prossimi tre anni arriveranno sull'isola altri otto treni di seconda generazione, portando così la flotta a un totale di 50 nuovi convogli. Si tratta di treni elettrici bidirezionali di nuova concezione, dotati in media di 300 posti a sedere e distribuiti in quattro carrozze, per una capienza di 530 persone nel rispetto delle restrizioni imposte dalle nuove normative sanitarie. I modelli POP offrono migliori performance in termini di comfort e accessibilità, raggiungono i 160 km all'ora, sono dotati di un sistema di telediagnostica e uno di telecamere interne che migliorano la sicurezza e dispongono di posti pensati specificamente per i disabili e per facilitare il transito delle persone a mobilità ridotta. Inoltre sono composti fino al 97% di materiali riciclabili e riducono il consumo energetico del 30% rispetto alla generazione di treni precedente, caratteristiche che li rendono adeguati a prestare servizio nel contesto della transizione ecologica. Le strutture e le caratteristiche delle casse di inalluminio, infine, contribuiscono a migliorare l'isolamento termico, pertanto i tempi di raffreddamento durante la stagione estiva e di riscaldamento durante quella invernale sono stati ulteriormente ridotti. Grazie a tutti.